Gioi che se ne è benvenuti in questo nuovo video, io ho pensato che sono MegaDanceMan, l'unico inimitabile e notizia flash come l'uomo flascido hanno aggiunto la nuova modalità duello in solitare ed è possibile ottenere persino i V-Bucks Ci stiamo avvicinando sempre di più alla modalità competitiva di Fortnite e quindi finalmente le primissime rank le stanno iniziando già a spuntare Entro quest'anno, perché è già stato detto tutto, uscirà sempre il mondo gratis quindi sicuramente otteneranno i V-Bucks dalle emissioni, quei 50 V-Bucks che si potrebbero ottenere Vi ricordo che questa unità è a tempo, finisce il 21 maggio alle ore 4 di mattina quindi insomma abbiamo tutto il tempo per arrivare alla centesima posizione Al primo posto si ha la possibilità di ottenere ben 50.000 V-Bucks cioè potresti shoppare 3 volte lo shop giornaliero di Fortnite insomma nel negozio dal secondo al quarto posto 25.000 V-Bucks che insomma voglio dire sono sempre premi sostanziosi più che li guadagno 200 ogni stagione insomma voglio dire sono più che discutibili dal quinto al cinquantesimo posto ben 13.500 V-Bucks dal cinquantunesimo al centesimo posto si possono guadagnare ben 7.500 V-Bucks Questo è tutto fino ad ora, non l'ho ancora provata e spero di arrivare almeno in centesima posizione altrimenti faccio una bruttissima figura intanto se volete aggiungermi in game io ovviamente sono dust ok, trovate comunque il link no, che sto dire il link, vi lascio il link qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video, mi sto comunque allenando su Fortnite sono diventato abbastanza bravo da fare persino una vittura reale e faccio tipo 4-5 kg a partita quindi nice detto questo vi ho tenuto aggiornati, se il video vi è piaciuto, anche se è brevissimo vi invito a lasciare un link e a dirmi cosa ne pensate almeno nei commenti così possiamo anche discutere su questo fatto a me sembra una figata onestamente perché c'è quel senso di sfida che ti tiene bello, bello pampinato come si può dire pampinato? e niente, noi ci vediamo nel prossimo video, vado a me nel senso ciao ciao